ciao bimbi benvenuti nel nostro spazio dieci minuti al libro aperto oggi vi leggo questa storia anna la terra e la casa di tutti l'avevo ordinato e appena arrivato per cui lo leggiamo subito insieme anche la lettura di questo libro di questa storia voglio dedicarla a pietro pietro e quel nostro amico eccezionale quel bambino eccezionale che conosco che come ci insegna questa storia è molto attento e sensibile a tutto ciò che ci circonda ciao pietro la terra è la casa di tutti ma proprio di tutti tutti cioè non solo gli esseri umani ma anche degli animali e delle piante questa mattina è venuto a trovarci un ragazzo che si chiama alberto e la maestra michela ci ha raccomandato di ascoltarlo attentamente ci spiegherà perché è importante rispettare e proteggere la natura e tutti gli esseri viventi alberto ci ha raccontato che al nostro pianeta sono serviti milioni e milioni di anni per creare tante specie di animali e piante diversi ma l'uomo con i suoi cattivi comportamenti ogni giorno distrugge boschi e foreste inquina acqua e l'atmosfera e mette a rischio la sopravvivenza degli animali mi sapete fare qualche esempio ci ha domandato la maestra michela giuseppe ha alzato subito la mano e ha detto come le balene che vengono cacciate per il loro grasso sofia ha aggiunto che anche i piccoli delle foche sono in pericolo perché le loro pellicce sono molto pregiate e che per fortuna ci sono delle persone che ogni anno vanno a difenderli dai cacciatori chiara intanto ha disegnato un panda perché i germogli di bambù sono sempre più scarsi e così questi simpatici animali non trovano più niente da mangiare e corrono in rischio di scomparire allora alberto ha esclamato giusto questi sono i casi più conosciuti quelli che si trovano sui libri o che si sentono in televisione ma tante altre specie scompaiono ogni anno silenziosamente animali e piante senza che la maggior parte della gente se ne renda conto francesco ha detto che lui quando sarà grande andrà a difendere gli animali in pericolo ma alberto ha spiegato che non serve aspettare tanto perché anche noi bambini possiamo fare ogni giorno dei piccoli gesti che messi tutti insieme servono a difendere la natura come tante goccioline che tutti insieme fanno il mare ha detto luca allora la maestra michela ha ricordato anche noi conosciamo qualcuno di questi piccoli gesti vero bambini ne abbiamo parlato tante volte matteo ha detto che bisogna che non bisogna sprecare la carta perché così salvano gli alberi che servono alla terra per respirare margherita ha spiegato che importante spegnere la luce quando si esce da una stanza perché in questo modo si risparmia energia luca mentre si spazzola i denti non fa scorrere l'acqua inutilmente perché l'acqua è un bene prezioso marta ha alzato la mano per dire che bisogna fare la raccolta differenziata dei rifiuti così vengono recuperati il vetro la carta e tanti altri materiali e con gli avanzi di cibo possiamo fare il compost che serve per concimare l'orto io ho raccontato che il mio papà quando può lascia a casa la macchina e vai a piedi o in bicicletta dice che una bella passeggiata ci tiene in forma non inquina e ti fa risparmiare poi prima che alberto se ne andasse chiara gli ha consegnato un bellissimo disegno della terra casa con il tetto e dentro la casa c'erano tanti bambini tanti animali tanti fiori bimbi anche la storia di oggi è terminata molto bella e ci vediamo domani nel nostro spazio 10 minuti a libro aperto per un'altra bella storia